Informati bene, scegli La Padania come tuo riferimento quotidiano, in edicola e online lapadania.net Nuovo appuntamento con Prima al Nord, meno immigrazione, più sicurezza, immigrazione gli ussoli Lasciare che l'immigrazione si autogestisca e si autoregolamenti è impensabile Bisogna intervenire con giusti provvedimenti rigidi che permettano di avere delle risposte positive in termini di sicurezza Abbiamo bisogno di maggiore presenza, di maggiore vigilanza, soprattutto nei periodi notturni perché di giorno bene o male stanno tutti svegli L'alternativa sarebbe la giustizia fai da te, dalle nostre parti non si accetta questo stato di cose Il segretario cittadino del nostro movimento stava tranquillamente passeggiando nella città di Brescia nel centro di Brescia ed è stato assalito e selvaggiamente picchiato semplicemente perché è il segretario di sezione della Lega Nord Ora, non ci si indigna più se un segretario di un partito viene picchiato per strada Questo è il problema che abbiamo, ma la cosa che mi infastidisce è che a livello nazionale diventa caso la parola sbagliata e non la violenza verso un rappresentante di un partito Grazie Di fronte a una crisi che difficilmente è già grave per noi difficilmente possiamo dare sicuramente un alloggio, un sostegno a queste persone Siamo di fronte a un disastro umanitario, questa è l'anticamera di un disastro Dobbiamo stare attenti, dobbiamo prevenire non solo la tutela del nostro territorio ma la tutela anche di queste persone che si trovano veramente di fronte a delle vere difficoltà anche per se stessi Cosa che ci sconcerta è che oggi donne e bambini sono quotidianamente a rischio della vita nel Mediterraneo e l'Europa ancora una volta gira la testa dall'altra parte Non può il nostro paese farsi carico da solo di questa emergenza Lei, signor Ministro, vuole una società multietnica, vuole una società multiraziale Questo modello di società ha fallito, questo modello di società ha portato odio sociale questo modello di società ha portato criminalità questo modello di società ha portato a maggior immigrazione clandestina Non lo dice la Lega, signor Ministro, lo dicono i dati, il filo conseguenziale è il filo diretto che esiste tra la criminalità e la delinquenza e l'immigrazione clandestina Signor Ministro, lei vuole smantellare le politiche di sicurezza, di lotta e di contrasto all'immigrazione clandestina ma a noi non glielo consentiremo Signor Ministro, lei vuole un'immigrazione clandestina Signor Ministro, lei vuole un'immigrazione clandestina Signor Ministro, lei vuole un'immigrazione clandestina